Iniziamo con il primo argomento del nostro esame di dito privato 2 che tratta le situazioni giuridiche soggettive. Che cos'è un rapporto giuridico? Un rapporto giuridico è la relazione tra un soggetto attivo e un soggetto passivo per la realizzazione di un determinato interesse e disciplinato dall'ordinamento giuridico. L'ordinamento dunque seleziona quelli che sono gli interessi meritevoli di tutela e rispetto ad un unico bene ci possono essere più interessi concorrenti. Infatti in un rapporto giuridico vi è proprio un conflitto di interessi e sta all'ordinamento a soddisfare uno al discapito dell'altro. Ogni volta che si individua un diritto vi è una scelta di tipo politico tra chi viene tutelato e chi soccombe. La situazione giuridica soggettiva è dunque la posizione giuridicamente rilevante di un soggetto nei confronti di un altro soggetto. Che cos'è dunque il diritto soggettivo? È far valere un proprio interesse meritevole di tutela da una norma giuridica e dunque esercitare il diritto soggettivo stesso. Che cos'è invece un interesse legittimo? Un interesse legittimo si ha nel momento in cui c'è una pretesa nei confronti della pubblica amministrazione che deve esercitare un potere in conformità della legge. Quindi si ha nel momento in cui la sfida privata è esposta a quella pubblica. Ovviamente non ogni volta che c'è un rapporto pubblico e privato siamo davanti ad un interesse legittimo. Perché un soggetto pubblico può comportarsi anche quale privato. Ad esempio se la nostra università fa un contratto di compravendita con l'azienda che la rifornisce di inchiostro, in questo caso si comporta da privato e dunque non si tratta di un interesse legittimo perché un soggetto pubblico può comportarsi quale privato in qualsiasi momento. Quali sono le categorie di diritti soggettivi? Innanzitutto si dividono in disponibili, indisponibili, assoluti, relativi, pubblici e privati e quelli privati in patrimoniali e non patrimoniali. Sono assoluti quando abbiamo un soggetto che ha un potere erga omnes. Ad esempio il diritto di proprietà è un diritto assoluto perché posso recintare il mio terreno così da escludere tutti i terzi che non possono entrare nel mio terreno. Dunque il terzo non ha un obbligo ma subisce il potere altrui. Mentre i diritti soggettivi relativi sono quelli che si possono far rivalere contro una determinata persona o più persone determinate. Dunque la realizzazione del diritto stesso da parte del soggetto richiede l'intervento di quello passivo. Ad esempio il diritto di credito è un diritto soggettivo relativo. I diritti disponibili invece sono quelli dove il soggetto può disporre liberamente, può trasferirli ad un altro soggetto e così via. Quelli indisponibili sono quelli di cui non si può disporre liberamente perché la legge ritiene che abbiano una particolare importanza e potrebbero venire lesi se lasciati alla libera negazionalità della parte. Sono ad esempio quelli della personalità. I diritti pubblici invece sono quelli che riguardano il rapporto tra funzionamento dello Stato, dell'istituzione e degli enti pubblici, oltre al rapporto tra cittadino denti come il diritto di voto. Poi ci sono i diritti privati ovvero quelli che riguardano il rapporto tra individui e si distinguono tra patrimoniali come diritti di credito di proprietà che appunto abbiamo un valore patrimoniale oppure non patrimoniali come quello della salute dove non c'è un valore effettivamente economico. Che cos'è invece l'abuso di un diritto? Quando si abusa di un diritto? Quando invece di soddisfare il proprio interesse si va a ledere quello altrui. Ad esempio io facoltà di costruire. E cosa faccio? Faccio un muro davanti alla finestra del vicino per fargli un dispetto, per rovinargli la vista. E quindi non sto realizzando il mio interesse ma sto cercando di fare un dispetto al mio vicino. Quindi cercando di togliere un diritto al vicino, quello di avere una vista davanti al suo appartamento così come l'ha comprato. Invece se io suono il piano e ledo l'interesse del mio vicino perché magari non sopportano la mia musica, lì non c'è un abuso del diritto perché io sto realizzando il mio interesse ovvero quello di suonare il pianoforte. Quindi in realtà l'abuso del diritto è una disciplina immessa interamente alla discrezionalità del giudice e non è disciplinata positivamente perché aspetta il giudice scegliere quale situazione, in quale situazione si sta abusando di un diritto e in quale situazione invece non si sta abusando di un diritto. Facciamo una piccola paramenta sulle situazioni di fatto che sono oltre a quelle giuridiche legittime quelle in cui il soggetto si trova in maniera temporanea, in maniera provvisoria rispetto ad un bene. Ad esempio sono importanti in tema di società, uso di un marchio, di famiglia, di rapporti di lavoro. Le situazioni invece giuridiche passive sono dovere, obbligo, soggezione e onereo. Cosa sono le situazioni giuridiche passive? Sappiamo che i due soggetti vengono chiamati parti, le persone estranee al rapporto vengono chiamate terzi. Il rapporto giuridico sprevede specifici diritti per una e specifici doveri per l'altra parte. Questi rapporti si vanno a definire con le situazioni giuridiche. Sono passive queste situazioni giuridiche quando prevedono la subordinazione degli interessi della parte a favore dell'altra. Sono attive quando prevedono una posizione favorevole alla parte stessa. Dunque una parte avrà una situazione giuridica passiva e l'altra attiva. Andiamo a a dire che cos'è il dovere. Il dovere è esattamente la controparte passiva del diritto assoluto. Quindi se è un diritto assoluto di un soggetto non essere derubato, il dovere di tutti è non rubare a quel soggetto. L'obbligo corrisponde invece passivamente al diritto soggettivo relativo. Se il creditore ha diritto a farsi pagare da un soggetto, questo avrà l'obbligo di pagarlo. La soggetzione corrisponde passivamente al diritto potestativo. Il datore di lavoro accetta la dimissione di un lavoratore indipendente e non può opporsi alla volontà del lavoratore stesso. Quindi è un apporto di soggettivo in questo caso. L'honor invece è il comportamento che ai soggetti conviene tenere per vedere realizzato un determinato diritto. Ad esempio l'honore della prova. Se voglio avere una sentenza favorevole a me dovrò mostrare una prova, quindi avere l'honore della prova. Allora, andiamo a vedere la gerarchia dei diritti. Abbiamo il soggetto che è titolare del diritto sul bene, ma tra il soggetto e il bene vi è un livello intermedio che chiamiamo diritto soggettivo. Dunque, ho un bene per soddisfare un interesse, un'utilità. Individuare il diritto soggettivo è fondamentale per capire le prerogative che ho su quel bene. Se ho un diritto di proprietà posso distruggere l'orologio che sto indossando. Se ho un diritto di comodato non posso distruggere l'orologio perché è soltanto un prestito che ce l'ho. Cos'è un bene? Secondo l'articolo 810 del codice civile sono bene le cose che possono formare oggetto di diritti. L'acqua del mare, dunque, è un bene? La luce del sole è un bene? No. Perché? Perché c'è bisogno della qualità della rivalità. Dunque, quando non posso escludere qualcun altro perché appunto il bene è di tutti, quello non è considerato un bene. Quindi l'acqua del mare e la luce del sole non è un bene. Sono beni le cose materiali ma anche le cose immateriali, ad esempio il diritto d'autore è un bene. Oppure ci sono casi in cui il diritto stesso è un bene, ad esempio il diritto di credito posso trasferirlo, cederlo, quindi sta al posto del bene stesso. I beni possono essere immobili o immobili. I beni immobili sono il suolo e gli impianti ancorati ad esso, secondo l'articolo 812 del codice civile, ancorati al suolo e messi dall'uomo anche. Mentre i beni immobili sono tutti gli altri, è importante distinguerli perché appunto sui beni immobili ad esempio noi paghiamo l'Imu, quindi è importante fare questa distinzione. Ci sono anche dei beni immobili che necessitano di atti in forma scritta come i beni immobili e quindi sono trattati ugualmente quelli registrati. Cos'è invece un'universalità di beni immobili? È un complesso di beni che appartengono allo stesso soggetto e a una destinazione unitaria, come l'insieme di libri che ho sulla libreria, posso vendere in un unico atto la mia entera biblioteca. Le università stabilite dalla legge sono eredità e azienda. Possiamo anche avere beni divisibili e indivisibili. Quelli divisibili non perdono di utilità dividendoli proporzionalmente, quelli indivisibili no, perdono di utilità dividendoli proporzionalmente. Ci sono beni consumabili che hanno un solo ottenizzo come il pane e beni inconsumabili come il cellulare o il televisore stesso. Non posso avere un contratto di comodato su un odio su frutto, su un bene consumabile. I beni possono essere fungibili quando non si caratterizzano per la peculiarità dell'oggetto, ma per la quantità, come un chilogrammo di grano. Non voglio la singola spiga di grano, ma voglio il chilogrammo di grano. E non sono interscambiabili, ad esempio invece un quadro originale di Picasso ovviamente è un bene infungibile perché non posso volerne un altro. Non si potranno avere tipi di contratti su appunto ad esempio il comodato sulle cose non fungibili. Un bene fungibile non può mai perire perché si può sempre restituire un oggetto determinato. Non c'è impossibilità sopravvenuta dunque. Cosa sono invece i frutti? I frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla cosa come prodotti agricoli. Frutti civili si traggono dalla cosa come corrispettivo del gondimento altrui. Tali sono gli interessi dei capitali, ad esempio. Il patrimonio invece è l'insieme di rapporti giuridici attivi e passivi rilevanti economicamente facenti capo ad un unico soggetto. I titoli modi d'acquisto invece. Titoli d'acquisto. Titolo derivativo, ad esempio da un precedente titolare d'ante causa ad un avente causa. Oppure titolo originario, non c'è il trasferimento da un precedente proprietario. Può essere derivativo traslativo, ovvero si trasferisce all'avente causa lo stesso diritto di cui si la titolari. Ad esempio avevo diritto di proprietà, trasferisco il mio diritto di proprietà ad un'altra persona. Oppure derivativo, ovvero non trasferisco lo stesso diritto, ad esempio ho diritto di proprietà, ma il terzo è un acquisto all'usufrutto. Inoltre a titolo gratuito, usufrutto oppure oneroso, in cui si corrisponde un prezzo come corrispondivo dell'acquisto del diritto. Invece i modi d'acquisto possono essere intervivos o mortis causa. Mortis causa particolare, in cui si trasferisce un singolo diritto, oppure universale, in cui si trasferisce l'intero patrimonio. Il testamento è un titolo derivativo traslativo gratuito, mortis causa e universale. La compravendita è un titolo derivativo traslativo, oneroso, intervivos e particolare. Come si perde un diritto? Si perde quando cade in prescrizione oppure quando viene abbandonato dal proprietario con la remissione del credito, rinuncia al proprio credito. La prescrizione, secondo l'articolo 2934 del Codice Civile, ogni diritto si estingue per prescrizione quando un soggetto non lo esercita per un determinato arco di tempo. La razza è nella certezza delle azioni giuridiche, cioè per dare coerenza al diritto esiste la prescrizione. Vi sono diritti imprescrittibili, come quelli della personalità, ma anche il diritto di proprietà è imprescrittibile per evitare che ci sia un arresto senza il proprietario. Andiamo ad analizzare i diritti reali. Il diritto reale più importante è il diritto di proprietà. Secondo l'articolo 432 del Codice Civile, il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con gli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Notiamo il godimento, il potere di godimento e disposizione della cosa, ovvero l'utilità diretta, il valore d'uso, la capacità di alienarlo, l'utilità di scambio e il potere pieno, ovvero la massima espansione delle prerogative attribuite al diritto, ma anche l'esclusività, ovvero il potere di escludere chiunque e di non poter sussistere sulla stessa cosa più diritti di proprietà. La proprietà può essere ovviamente materiale oppure immateriale, come quella industriale, intellettuale oppure quella di azioni.